Oggi il primo stand di committee del gruppo Calre, della nostra associazione, delle 74 regioni, delle 8 nazioni con assemblee legislative, che si riunisce qui a Bruxelles per approvare la programmazione di quest'anno. Un anno un po' particolare perché cade appunto nell'anno del rinnovo delle cariche europee, quindi ci troviamo in anticipo rispetto all'appuntamento elettorale di maggio, un appuntamento che vedrà andare al voto anche molte delle regioni, tutte le regioni spagnole, quindi cade in una situazione per i nostri parlamenti regionali un po' particolare. Ma questo non ci esime dal voler continuare un lavoro lungo, intenso, che iniziò 20 anni fa a Doviedo e che si è concretizzato assolutamente attraverso la volontà di stabilire dei contatti in orizzontale tra le assemblee legislative con potere legislativo, nel tentativo di portare a fattor comune quelle che sono le esperienze comuni a tanti di noi, pur tenendo conto delle grandi differenze che costituiscono un elemento di arricchimento e di crescita collettiva. In questo momento la nostra attività si è focalizzata su una serie di interrogativi, di quale può essere il futuro della Calre in un momento in cui si parla anche di futuro di Europa. Avevamo in programma anche la discussione sulla Gran Bretagna, in quanto nell'ultima plenaria alle Isole Azzorre la regione della Scozia ci aveva appunto formalizzato una richiesta di poter rimanere comunque all'interno di questa conferenza, pur uscendo la Gran Bretagna, come sappiamo, almeno nelle intenzioni dall'Europa. Ecco, ci sono quindi tematiche sulle quali stiamo lavorando, consapevoli del fatto che la nostra è una realtà che può rappresentare nella multigovernance dei vari livelli un elemento di una catena, un anello molto importante, capace di raccogliere quelle che sono le istanze che provengono dalla base e determinato e fortemente convinto di doversi rapportare con quelli che sono i livelli sovrastanti, quindi penso ai livelli nazionali di ciascun paese e a quello appunto europeo. Proprio per accorciare queste distanze, per cercare di rendere ancora più permeabile la nostra collettività rispetto a quelle che sono le misure che l'Europa mette in campo, il nostro impegno sarà quello di lavorare fortemente sulla sussidiarietà attiva. L'abbiamo fatto anche partecipando all'incontro di Bucharest, dove siamo stati chiamati in causa dal presidente Lambert del Comitato delle Regioni, che nel documento appunto cita il ruolo delle assemblee legislative e siamo convinti di dover continuare su questa linea cercando di rafforzare la nostra azione, il nostro partenariato, allargandolo anche a fasce della nostra comunità che al momento sono escluse dalla forma di concertazione che diventa poi l'elemento dinamico attraverso cui si costruisce la democrazia. Per quello che mi riguarda c'è molta attenzione al mondo dei giovani. Vengo dal mondo della scuola perché la mia professione è quella di insegnante e mi rendo conto di quanto in questo mondo si registrino due forme essenzialmente di posizione rispetto all'Europa. O la comprensione, l'innamoramento del sogno europeo che si concretizza per molti studenti nelle attività Erasmus, nei progetti di scambio che si stanno anticipando anche nei gradi scolastici e che hanno dato la possibilità a molti dei nostri ragazzi di formarsi in un ambito culturale più ampio del paese dal quale provengono. Mentre per una fascia di questa popolazione rimasta esclusa da questi meccanismi a volte si vede prevalere un senso quasi di non conoscenza, di rifiuto a priori dell'istituzione Europa e su questo noi dovremmo lavorare. Lavorare mettendo in evidenza luci e ombre di un'istituzione che nel corso di questi 70 anni, sì, ci ha garantito la pace e questo non è poco, lo abbiamo ripetuto in tante occasioni, ma forse non ha colmato quelle aspettative che i padri fondatori si erano in qualche maniera prefissati. E come in tutti i processi il progetto di verifica costante delle azioni messe in campo e quindi le conseguenti valutazioni ci devono portare a strutturare quei meccanismi di compensazione e anche di correzione di ciò che non ha funzionato nella consapevolezza che i bisogni cambiano che è un processo dinamico in continua evoluzione nel quale vogliamo esserci da protagonisti in una rete sempre molto stretta e molto rafforzata con le altre istituzioni a partire dal Comitato delle Regioni.